Davide Ponti, presidente della quindicesima zona, qui a Dongo per questa ultima tappa del trofeo Optimist Italia Kinder Joy on Moving. Abbiamo chiesto ai ragazzi cos'è la Joy on Moving, la gioia della vela per loro e come al solito sono strepitosi, spiazzanti. Tu invece che ragazzo sei stato, giovanissimo. Andavi sull'Optimist? No, negativo. Io quando ho iniziato non c'erano gli Optimist, io ho iniziato nel 65 e all'epoca si iniziava sugli Alponi o sugli Arancioni, in verità sui Cima Roma. Frank Junior Cima con la penna arancione e si iniziava con tutta la trafila. Prima facevi il Prodiere, Seri Bravino poi ti facevano provare il Timone, Seri Bravo bravo bravo, poi andavi a fare Prodiere sui Fra Junior Galetti e via via discorrendo e questi sono stati i primi passi che però mi hanno entusiasmato. Allora rimaniamo nel tema della giornata e facciamo questo confronto. Io ho fatto a 50 bambini e bambine questa domanda cos'è la gioia della vela, la chiedo pure a te. La gioia della vela di quando tu la facevi da ragazzo e la gioia della vela oggi da dirigente sportivo, sei un presidente di un comitato regionale. La gioia della vela è data da emozione, questa emozione incredibile che evidentemente è contagiosa perché nonostante tante difficoltà comunque sia i numeri ci sono, la presenza anche in questa regata sono state cospicue ed è molto bello. E questa emozione fantastica del silenzio, dell'acqua, del vento e di questi meravigliosi colori intorno a te che ti inebriano l'anima, non c'è altro da dire, diventa fortissima e ripeto ho iniziato il 12 giugno 65, non dimentico e dopo tanti anni sono ancora qui con immutata passione, ruolo diverso, in barche ci vado pochissimo ma se sono qui mi impegno e passo il mio tempo per questo sport è proprio passione. Dopo torniamo sul ruolo del dirigente sportivo, rimaniamo invece qui sul lago di Como e a Marvelia in particolare a Dungo, questo circolo straordinario che in una decina d'anni ha un po' bruciato le tappe, quindi quanto è importante anche gli uomini, la passione di chi, i volontari che la promuovono questa vela e materialmente la portano in giro oppure in questo caso ospino. Ti dico una cosa che è stata detta ieri all'Optifest, la scena, da Marcello Meringolo che è il tecnico della classe, ha detto sono sorpreso perché abbiamo avuto un'organizzazione del nord con un'ospitalità del sud, ovviamente è una semplificazione che può anche, può piacere o non piacere, però io la voglio riportare e te la voglio riportare perché secondo me è significativa. Lusinghiero, appena vedo Marcello lo ringrazio di questa affermazione perché ho il piacere di conoscere tanta gente, tanti amici del sud e condivido il fatto che c'è uno spirito di ospitalità in genericamente parlando ben superiore alla nostra freddezza pragmatica del nord. Detto questo Marveglia si è distinta in questi anni per una progettualità pragmatica, in questo caso da nord, nella quale ha sviluppato una serie di attività, ovviamente anche la parte agonistica sportiva e di organizzazione di regata che ben si è proposta in questo evento. Io ho seguito dietro le quinte ma presente, devo dire che sono stati veramente molto molto bravi, sono contento di questa affermazione benigolo che va a testimoniare questa situazione, peccato quest'ultima giornata. La meteorologia non si comanda, la vela si fa con la natura, quindi l'accettiamo, è un rapporto che deve essere sempre stretto tra il velista e la natura, gli elementi naturali. L'organizzazione ha avuto anche un'interfaccia importante, una collaborazione importante che vorrei che tu rimarcassi con la Capitanieri di Porto locale. Sì, allora questo nasce in verità dall'anno scorso ed ero io presidente di una comitata qui su cui abbiamo avuto una criticità dovuta a una presenza in verità impropria di alcune scuole straniere di kitesurf che invadevano il campo di regata. Questo ha dato origine a una serie di ripercussioni che mi hanno portato a colloquiare anche con la regione Lombardia e fino a che abbiamo trovato un esito in questo momento, anche qui pragmatico, ma di collaborazione con la Guardia Costiera militare e con la Guardia Costiera ausiliaria che ci hanno dato una grossissima mano e voglio anche in questa intervista ringraziare pubblicamente queste persone, il comandante Ragadale in prima persona che è nel comando di Salò, ma che coordina anche le guardie costiere qui dell'Ario e del Verbano. Quando ci sono quasi 300 giovanissimi in una regata è sempre un momento importante, è sempre un momento delicato e l'organizzazione e la sicurezza devono essere tutti elementi super garantiti. Senti, i laghi per la regione, per la zona che tu presiedi, la quindicesima zona, Piemonte e Lombardia, sono al centro anche di quell'iniziativa chiamata Vela Viva, che voi fate Vela Viva 15, che proprio vuole essere un po' un veladei sparpagliato e specializzato nei laghi, questi bacini che sono un patrimonio straordinario turistico, sportivo, di grande promozione. Sì, quest'anno abbiamo avuto la seconda edizione di questo evento che chiaramente ha un'importanza promozionale fantastica, andiamo a rivolgerci, usando un termine magari che viene da pregresse esperienze lavorative, va a essere un bacino d'utenza semi inesplorato, ovvero sia di appassionati ma che non sono così iper sportivi. Poi è libera partecipazione a tutti, sia ben chiaro che tutti sono i benvenuti. Ed è una formula che ha riscontrato un grande successo, ci dividiamo naturalmente sotto il profilo promozionale, sotto il profilo di sensibilizzazione delle istituzioni a questo importante aspetto che è il turismo sportivo, nella quale noi abbiamo in verità un po' da migliorare in questa area, ma comunque abbiamo trovato degli ottimi interlocutori, tant'è che quasi tutte le istituzioni locali hanno patrocinato l'evento. E poi ci sono degli aspetti di filantropia molto importanti, ci rivolgiamo a tanti aspetti diversi, dall'aspetto psicologico di supporto dai milanititerminali, agli aspetti delle persone che hanno disturbi di alimentazione, ai malati oncologici, alla fondazione Ascoli, parenti di Fabio Ascoli, famosissimo velista che supporta l'ospedale del Ponte Varese, tanti aspetti di sensibilizzazione, inclusione, il tutto con un minimo coordinatore, la vela, bellissimo. Troppo importante, grazie Presidente, buon lavoro. Grazie Fabio, grazie a tutti, un saluto e sempre buon vento a tutti.